Ah, sono i ragazzi di materiale, Strobel e Zambo! Scusate, non ho resistito. E oggi siamo su un nuovo vlog. Dopo tanto tempo, torniamo anche a fare i vlog. Allora, un paio di cose da dirvi, in modo molto rapido. Allora, innanzitutto, che bello essere tornati. Come la titolo? Fantastico. Cioè, noi stiamo ricevendo tanto di quell'affetto, tanto di quel calore, tanto di quei bei commenti, di quei like, che uno può dare per scontato, ma sì, un like, un commento, cosa vuoi che sia. Per noi è davvero bello. Perché tornare, intanto, siamo tornati ovviamente per passione e divertimento. Come abbiamo sempre detto, noi per quello non riusciamo a mantenere spesso una cadenza regolare. Perché abbiamo impegni più grandi e quindi ci rende difficile continuare a volte una passione. Detto questo, siamo tornati appunto molto volentieri. Leggere poi, ripeto, tutti quei commenti e ricevere un'accoglienza così è stato davvero bello. Quindi, grazie ragazzi, grazie davvero, perché per noi può sembrare poco, ma in realtà conta molto. Detto questo, se vi state chiedendo cos'è questa roba qua, rossa, è una spada laser. Era proprio quello che stavate pensando. È proprio una spada laser? E sì, signori, si illumina. Mi sa che se vado a Lucca l'anno prossimo devo decidere se fare il cosplay di un signore dei Sith o se fare quello di Daredevil, che è un altro che ho in cantiere. Non lo so, non lo so, tanto non so neanche se andrò a Lucca, quindi ora come ora mi godo questa cosa fantastica e me la prenderò al muro appena disco. Stronzate a parte, veniamo al punto per cui ho fatto questo vlog. Oltre al fatto di ringraziarvi, perché, ripeto, è davvero bellissimo tornare in questo modo, ho pensato di fare un fact time anche per, appunto, richiamare i vecchi tempi. Quindi l'ultimo che abbiamo fatto sarà stato forse per uno special, mi sembra, non mi ricordo esattamente, ma figata. Ho voglia di fare un altro, anche perché in tutto questo tempo di essenza da parte nostra di cosa ne sono successe, ne sono cambiate, quindi immagino che magari qualcuno abbia qualche curiosità da chiedere, oltre alle classiche cose, tipo, qual è il tuo gruppo preferito, che sport fai, ma tu e Zambo siete fratelli, insomma, come c'era inchiesta in questi anni, sempre. E quindi, che dire, quindi vieni te, assolutamente in questo video, nei commenti, andate assolutamente a scrivere tutto quello che vi passa per la testa, magari metteteci, stavo strozzando, magari metteteci tipo un hashtag fact time, hashtag fuck, hashtag quello che volete voi, perché, sì, così io recupero meglio le domande, quindi facciamo molto prima così. Niente, direi che vi ho detto assolutamente tutto, mi raccomando, scriveteci un sacco di domande qui sotto nei commenti, e niente, grazie davvero di sé, come sempre, di tutto, per tutto il vostro supporto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!